Per quanto riguarda l'immigrazione, lei ha criticato fortemente l'operato del ministro Alfano, perché? Non possiamo non far altro che criticarlo. Alfano è il miglior ministro dell'interno del Partito Democratico, abbiamo detto oggi. È una settimana che noi chiediamo al ministro di venire in aula e non si presenta, si nasconde. È un ministro dell'interno che ad oggi non ha prevenuto, non ha risolto, ma interpreta il proprio ruolo solo per darci informative di quanti immigrati arriveranno sui balconi. Questa è una cosa che non possiamo permetterci, non possiamo permetterci per due motivi. Il primo è che noi non vogliamo ancora altri morti in mare. Il secondo è che quando saranno qua non vedo chi potrà mantenerli visto che non c'è un posto di lavoro per i nostri. Per cui Alfano deve fare esattamente quello che aveva fatto il ministro Maroni, fermare i balconi alla partenza. Questo è quello che deve fare e che non sta facendo.